buonasera a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento con scienza più voci 2018 ed è bellissimo poter partire questa sera parlando d'amore e come potevamo non farlo se non partendo da queste due splendide creature due splendidi esemplari umano che appunto ci introdurranno al tema dell'amore in campo animale e naturale ma partiamo con qualche ringraziamento perché è giusto ringraziare chi ci permette qua ogni anno di essere presenti e di continuare a fare questo evento di divulgazione scientifica quindi partiamo appunto dal planetario martino di modena che continua ad ospitarci nonostante noi continuiamo a essere sempre più molesti di anno in anno il patrocinio del comune di modena dell'università di modena reggio emilia è un grazie molto grande anche al gruppo modenese di scienze naturali e al gruppo di ingegneri senza frontiere che continuano a fare pubblicità ai nostri eventi poi vogliamo dire che la biblioteca del fini renderà disponibili al termine di ogni conferenza per sei settimane in bacheca dei libri contenenti appunto le conferenze che noi terremo qua di settimana in settimana nel ciclo di scienza più voci presentiamo i nostri relatori di questa sera Ilaria biologa che per tanto tempo si è dedicata ai primati e quindi al mondo della natura e appunto degli animali e Niccolò Patelli agronomo ed entomologo direi che posso già passare la parola a voi perché è giusto che la serata sia vostra buona serata allora buonasera a tutti benvenuti a questa conferenza noi appunto parleremo di amore nel mondo animale ma non solo vediamo un po di cosa tratterà questa serata allora innanzitutto ci siamo chiesti perché noi ci riproduciamo dopodiché andremo a vedere anche quali sono le modalità di riproduzione perché non è uguale per tutti la riproduzione avviene molto spesso perché prima due individui si devono scegliere quindi c'è un corteggiamento che fa sì che un individuo si faccia notare e si faccia scegliere da un altro individuo il corteggiamento poi porta un tipo di selezione chiamata selezione sessuale e questa selezione agisce come la selezione naturale quindi un soggetto corteggia un altro soggetto sviluppa quindi determinati comportamenti o caratteristiche fisiche che vengono poi selezionate nel tempo finché non si instaurano proprio nella specie vedremo un'estremizzazione della selezione sessuale che si chiama teoria dell'handicap poi vedremo due esempi molto famosi e poi faremo il confronto anche con l'uomo tutto quello che vediamo con gli animali vedremo che c'è un riscontro anche nella nostra specie in quanto l'uomo appartiene agli animali poi vedremo quali sono i sistemi di accoppiamento cioè la poligamia e la monogamia e ci siamo chiesti anche questo discorso come funziona anche nell'uomo allora per rispondere alla prima domanda sul perché ci riproduciamo innanzitutto diciamo ogni specie ha l'obiettivo di colonizzare il maggior numero possibile di ambienti per evitare l'estinzione ogni individuo da parte sua ha l'obiettivo di trasmettere i propri geni quindi di riprodursi per far andare avanti quelli che sono i propri geni allora le strategie di riproduzione sono due quella assessuata e quella assessuata in quella assessuata implica che ci sia un individuo solo che semplicemente si divide in due parti oppure per gemmazione vuol dire che una piccola parte viene esce dall'individuo e forma un altro individuo oppure ci sono dei casi ancora più estremi in cui un soggetto si auto feconda le proprie uova nella riproduzione sessuata invece ci sono due soggetti diversi maschio e la femmina che hanno gameti diversi quindi spermatozoi e cellule uovo in soggetti separati in questo caso si ha una fecondazione che può essere esterna oppure interna la fecondazione esterna per ovvie ragioni avviene in ambienti acquatici e in ambienti acquatici e cosa succede c'è una sincronizzazione dell'emissione dei gameti quindi vuol dire che contemporaneamente vengono emessi spermatozoi e cellule uovo e la fecondazione avviene in acqua invece nella fecondazione interna la conosciamo bene è quella che avviene nella maggior parte dei vertebrati e quindi appunto funziona come sappiamo allora il corteggiamento la fecondazione esterna implica che due individui debbano incontrarsi e debbano scegliersi quindi il corteggiamento è tutto quell'insieme di comportamenti che fa un individuo per indicare di essere pronto all'accoppiamento quindi esibisce caratteristiche fisiche e comportamenti specifici per spiccare tra tutti gli altri per farsi scegliere che è che sceglie la femmina in natura la femmina sceglie il maschio la femmina quindi scegliendo il maschio seleziona determinati caratteri che le piacciono nel maschio esercitando quindi una selezione sessuale la femmina sceglie ma c'è un motivo specifico sceglie perché rappresenta una risorsa infatti noi dobbiamo pensare ai gameti quindi agli spermatozoi e alle cellule uovo un uomo un maschio produce tantissimi spermatozoi nell'arco di tutta la vita invece la femmina di cellule uovo ne produce un numero limitato quindi investe molta più energia per produrli quindi ci sono molti più spermatozoi e molte meno cellule uovo quindi le cellule uovo sono una risorsa e i maschi portatori di spermatozoi devono competere per questa risorsa questo è un esempio molto estremo e questo uccello si chiama kiwi e vediamo nell'immagine sotto quanto quanta energia investe la femmina nel produrre un uovo l'uovo di questo uccello è grande come tutta la cassa tracica di questo animale quindi qua ci rendiamo conto effettivamente di quanto sia dispendioso per una femmina produrre le cellule uova allora la selezione sessuale implica che ci sia un dimorfismo sessuale vuol dire che gli animali sono semplicemente diversi maschi dalle femmine qua vediamo due esempi, in alto il dino, i maschi portano queste strutture che si chiamano palchi e invece sotto vediamo il pavone che sappiamo che sono diversi infatti proprio per la coda poi scopriremo perché allora questo è un altro esempio abbastanza estremo del dimorfismo sessuale questa è una specie di rana pescatrice allora quella che vediamo nell'immagine è la femmina il maschio è quello piccolino lì sotto perché? allora il maschio è praticamente una sorta di parassita nel senso che ha un intestino che non riesce a vivere fuori dal corpo della femmina quindi rappresenta indicativamente come un sacco di spermatozoi che vive all'interno del corpo della femmina qua vediamo invece in questa foto due cervi volanti quella a sinistra è il maschio, quella a destra invece è la femmina il maschio lo vediamo diverso perché rappresenta queste due mandibole allora i maschi per scegliere le femmine spesso competono tra di loro hanno una sorta di armi abbiamo visto prima i daini ma anche i cervi hanno ad esempio i palchi i palchi sono delle strutture che scompaiono e ricompaiono ogni anno e servono praticamente solo nel periodo della riproduzione, nel periodo degli accoppiamenti e allora il palco è praticamente un'arma che usano gli animali per fronteggiarsi e combattere tra di loro per avere accesso alle femmine qua vediamo invece il cervo volante vediamo che ci sono due maschi li riconosciamo dalle mandibole nella prima immagine questi due maschi cosa fanno? si guardano, si studiano guardano quanto sono grandi poi lo scontro può andare in due modi prima di passare allo scontro fisico che porta a una perdita di popolazione eventualmente perché uno dei due può rimanere ferito o ucciso uno dei due può decidere di ritirarsi dallo scontro perché vede che l'altro nemico è più difficile da affrontare e quindi succede quello che succede sotto cioè si gira e se ne va questo si chiama aggressività ritualizzata quindi ci si studia e si capisce se si può effettivamente sostenere questo conflitto se invece il conflitto si riesce a sostenere allora vediamo cosa succede nell'immagine di destra nel caso specifico del cervo volante un animale viene buttato giù dal ramo allora questo invece è un pesce molto divertente questo è Neoclinus blanciardi e vediamo cosa fa è proprio un esempio perfetto di aggressività ritualizzata questo è un maschio che vede un altro maschio allora un altro modo perché si verifica la competizione al di là dello scontro si parla di competizione spermatica allora negli spermatozoi spesso ci sono delle sostanze che neutralizzano gli spermatozoi di altri maschi in modo che anche tra loro c'è questa sorta di competizione oppure anche delle sostanze che inducono nella femmina la ricerca di cibo questo vuol dire che dopo l'accoppiamento la femmina non andrà a cercare altri maschi ma andrà a cercare il cibo e quindi il maschio si garantisce l'accesso a quella femmina un'altra modalità è il controllo del partner quindi il maschio fisicamente controlla la femmina dopo l'accoppiamento che non si allontani per un bel po' di tempo vediamo questi due esempi l'orso polare oppure la madriade che è questo primate che vive in Africa vediamo ora però a parte la competizione quali sono le tecniche per attrarre e per conquistare le femmine negli animali benissimo allora partiamo subito l'offerta di cibo è una delle tecniche che probabilmente sono più utilizzate in natura abbiamo raccolto due esempi il primo è un gruccione un uccello che vive anche da noi passa da noi durante i suoi flussi migratori ed è conosciuto per offrire in dono le api alla propria amata nel caso in basso a destra invece abbiamo un dittero empilide questi ditteri sono piuttosto famosi perché oltre ad offrire in dono una preda alla potenziale partner nel caso che l'accoppiamento finisca quando la femmina non ha ancora finito il pasto beh a volte il maschio si riprende la preda e la porta un'altra femmina quindi insomma un po' il doppio gioco questo invece è uno dei casi più estremi di offerta di cibo quando il maschio di mantide religiosa offre se stesso in dono all'amata allora ho due miti da sfatare allora innanzitutto la mantide religiosa è in grado di finire l'accoppiamento anche senza testa perché ha un sistema nervoso estremamente semplice che permette al maschio in questo caso un bel maschietto che ho trovato in giardino di finire l'accoppiamento anche senza proprio il cervello infine questa mantide non sempre mangia la testa al compagno infatti è un comportamento che è stato riscontrato molto più in cattività che in natura infatti in natura sono frequenti i casi in cui il maschio si allontana con la testa sulle spalle le dimensioni corporee sono un altro requisito fondamentale nell'attrarre le femmine uno degli esempi più famosi è quello dei gorilla in questo caso è un grosso maschio chiamato silverback per la colorazione del dorso in questa specie esistono dei gruppi e il maschio dominante è l'unico ad accoppiarsi con le femmine i colori sgargianti sono una tecnica utilizzata principalmente negli uccelli quindi che cosa sta a significare un colore sgargiante? beh principalmente significa che l'uccello è ben alimentato quindi è in grado di alimentarsi correttamente quando invece l'uccello non è in grado di sfoggiare colori sgargianti beh qualche volta si inventa delle costruzioni elaborate questo è l'uccello giardiniere che vive nel nord dell'Australia nel Queensland per intenderci oltre a costruire un nido piuttosto elaborato con pezzi di legno, sterpaglie e quant'altro lo addobba con tutte le cose colorate che trova in natura quindi frutti, fiori, piume di altri uccelli e quando si trova in situazioni fortemente urbanizzate beh insomma utilizza i tappi di bottiglia addirittura come nell'esempio in basso a destra una cosa interessante è che questo nido non viene mai utilizzato per deporre le uova quindi è semplicemente una costruzione che serve ad attrarre la femmina dopodiché non ha alcun significato riproduttivo l'accesso a buoni territori è comunemente conosciuto come un fattore fondamentale nell'attrarre un partner infatti gli studiosi hanno notato una correlazione tra l'abilità del maschio a portare cibo alla femmina a offrirle buoni territori e alla capacità di difesa delle prole immaginiamo infatti un territorio facilmente difendibile ricco di cibo beh allora sarà il luogo ideale per crescere la prole i LEC invece sono un sistema leggermente diverso infatti è semplicemente una arena di esibizione in questa arena i maschi si sfidano e cercano di dimostrare quale tra di loro è in grado di eseguire un rituale migliore immaginiamo ad esempio un'esibizione di uccelli come nel caso che poi vedremo i maschi dominanti occupano posizioni centrali e hanno un proprio territorio di esibizione più grande rispetto ai maschi subordinati quindi abbiamo i maschi alfa al centro beta, gamma e delta verso l'esterno addirittura alcuni stanno proprio all'esterno le femmine girano liberamente in quest'area di esibizione e scelgono il maschio in base a quanto sono bravi ad esibire le loro caratteristiche un esempio è questo gallo della salvia queste sacche che vediamo sul petto sono utilizzate come cassa di risonanza per produrre un suono a bassa frequenza che viene udito addirittura a 3-4 km di distanza quindi immaginiamo tanti galli messi insieme hanno potere di richiamare un numero considerevole di femmine nella prateria il canto, come abbiamo già visto prima è uno degli esempi più classici di tecniche per attrarre le femmine tutti quanti abbiamo presente il frinire delle cicale nelle giornate d'estate o il gracidare delle rane nei fossi beh, c'è qualcuno che però eccelle in questo campo questo è l'uccello lira tanto per cambiare vive nel nord dell'Australia per qualche motivo vivono tutti lì prende il nome dalle penne della coda che ricordano proprio lo strumento, la lira e in quanto a esibizione beh, sentiamolo questo è la varietà la varietà di suoni così grande è possibile grazie a una siringe particolarmente sviluppata la siringe non è nient'altro che l'equivalente della nostra laringe cioè l'organo con cui gli uccelli riescono a fare dei suoni questo uccello che a volte si dimostra abbastanza minaccioso è in grado di copiare una enorme varietà di suoni che vanno da probabilmente una pistola laser per bambini questo che sentite è il cuca burra un uccello australiano di cui lui prende in prestito il canto in alcuni casi è stato documentato l'uccello ira copiare l'osturatore della macchina fotografica il motore della macchina fotografica addirittura il motore delle automobili la voce umana e in alcuni casi addirittura le motoseghe nella foresta quindi è in grado di copiare letteralmente qualsiasi suono che gli senta passiamo ad un altro tipo di esibizioni allora questo è un uccello che ho avuto la fortuna di vedere personalmente nella foresta in Honduras e vi garantisco che il suo ballo come vediamo in questo filmato non è accelerato non so se vi ricordate il re del pop Michael Jackson ma più o meno questo uccello sta tentando di fare un moonwalk adesso vediamo che si approccia alla femmina e quindi quindi a questo punto l'uccello sta tentando di impressionare questa femmina che sembra abbastanza interessata inizialmente ma alla fine se ne va bene veniamo un altro esempio a me piuttosto caro perché trovo questi ragni piuttosto carini questi sono ragni pavone indovinate dove vivono? bravissimi vi vedo attenti allora chiaramente il nome richiama proprio questa specie di coda che non è altro che l'addome allargato in questo caso il ballo ha una doppia funzione infatti oltre a dover dimostrare qualcosa alla femmina beh non so se avete presente la vedova nera per cose famose il maschio se lo mangia e quindi questo è il nostro maschio e questa è la femmina quindi che cosa deve fare il maschio per impressionare la femmina e cercare di distrarla beh balla danza 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 come la sua vita depended on it nella maggioranza delle specie di ragni di questo tipo che si chiamano salticidi sono ragni famosi per saltare la femmina è piuttosto aggressiva verso qualunque cosa si muova e i maschi non sono da meno chiaramente quello che sostanzialmente il maschio sta cercando di dire è guarda che non sono buono da mangiare forse potremmo fare qualcosa di più utile che mangiarci a vicenda ma la femmina sembra non essere dello stesso parere quindi a forza di perseverare allora la posizione sembra abbastanza strana ma è semplicemente perché i ragni non hanno un vero e proprio organo sessuale come noi lo intendiamo ma bensì donano lo sperma alla ragna in altro modo tuttavia finito l'accoppiamento beh il ragno torna ad essere una freda quindi ne approfitto per dire che da un punto di vista biologico in molte specie il maschio non è nient'altro che un portatore di sperma non ha nessun'altra funzione come abbiamo visto nella rana pescatrice di prima bene passiamo a qualche altro balletto meno cruento questo uccello dal nome altisonante uccello fucile magnifico fa parte della famiglia degli uccelli del paradiso che forse ci suona qualche campanello beh il suo balletto è peculiare allora innanzitutto l'uccello deve richiamare l'attenzione di qualcuno quindi canta e dice ehi venite a guardare quando la femmina arriva e sembra anche piuttosto interessata quindi risponde al rituale in molte specie di uccelli il rituale è una sorta di balletto tra il maschio e la femmina però forse il maschio è un po' molto pressante e a forza di destra-sinistra destra-sinistra beh sembra che non sia più interessata ecco non so perché abbiamo raccolto tutta una serie di filmati finiscono tutti male bene passiamo ad un altro uccello del paradiso la paradisea superba che ha un rituale piuttosto simile ah mi sono dimenticato di dirvi che anche questi vengono dal nord dell'Australia tanto per cambiare sono tutti un po' strani lì si corteggiano in modi particolari e questo signore qua inizia pulendo l'arena di esibizione tutto deve essere perfetto dopodiché comincia a danzare non trovate che sia molto bello? purtroppo nessuno lo guarda quindi lui sale sul suo ramo e anche lui chiama attraggio la femmina e lui ha più fortale ma cosa deve fare per veramente imprezzare a quanto pare il mondo degli uccelli del paradiso è veramente complicato bisogna davvero dare il massimo ma quando anche dai il tuo massimo e non funziona ti senti quantomeno un po' sgonfiato ecco e quindi anche in questo caso è andata male bene passiamo ad un'altra esibizione usciamo un po' dai classici schemi allora immaginiamo di essere delle rane molto piccole in mezzo ad un ruccello con la corrente molto impetuosa quindi il fragoroso rumore delle acque sovrasta il canto della rana quindi che cosa si è inventata questa rana? beh letteralmente questa rana sbandiera la propria propensione all'accoppiamento muovendo la zampa le zampe posteriori letteralmente si stirano queste rane stanno sbandierando anche il contenuto di testosterone infatti alcuni studi hanno dimostrato che più le rane hanno testosterone nel sangue più sbandierano le zampe posteriori quindi sta proprio a significare e guardate quanto sono virile in sostanza tutti quanti conosciamo le lucciole presumo e le lucciole si trovano tra loro utilizzando dei segnali luminosi la cui intermittenza varia da specie a specie quella che vediamo nella foto in basso vediamo la femmina molto grossa e il maschio piccolino allora in questa specie la femmina mantiene dei caratteri giovanili assomiglia molto a una larva tuttavia essendo che ogni specie ha una frequenza specie specifica di emittenza della bioluminescenza alcune specie hanno imparato ad imitare la frequenza di altre specie con lo scopo di attrarre i maschi e mangiarseli quindi hanno creato una sorta di trappola evolutiva utilizzando il rituale di corteggiamento di altre specie un'altra trappola evolutiva è questa questo è un coleottero appartenente alla famiglia dei buprestidi chiamati anche coleotteri gioiello perché tendono a essere estremamente colorati e rilucenti proprio questa rilucenza è il fenomeno che i maschi utilizzano per trovare la femmina nel fogliame delle piante tuttavia agli occhi di un maschio di questo coleottero una bottiglia di birra non è altro che una enorme e molto attraente femmina di conseguenza preferiscono cercare di accoppiarsi con le bottiglie di birra invece che con le femmine ora tutto questo sembra molto divertente in effetti è piuttosto divertente se non fosse che a forza di buttare bottiglie per terra questo insetto è in pericolo di estinzione quindi insomma non sempre le cose vanno per il verso giusto tuttavia questo sistema viene utilizzato dagli studiosi per difenderci da questo coleottero che viene chiamato minatore del frassino è sempre un buprestide stessa famiglia tuttavia questo insetto in particolare è in grado di defogliare completamente le piante di frassino di conseguenza a noi viene facile identificare che nella foto a destra c'è un pezzo di plastica dal colore simile ma agli occhi di un maschio questo pezzetto di plastica iridescente è sostanzialmente una femmina una bella femmina e accoppiandosi con questi zimbelli si riduce la quantità di uova che vengono dai posti e di conseguenza la quantità di infestazione che c'è su questo frassino quindi alla lunga noi riusciamo a proteggere le nostre piante cambiando tecnica passiamo agli odori i maschi di questo genere api delle orchidee per gli amanti dei nomi latini euglossa e altri generi si cospargono del profumo delle orchidee entrando nei fiori non tanto per nutrirsi del nettare ma bensì per presentarsi alla femmina bellico sparsi di odore di profumo delle orchidee che insomma in tanti conosciamo le orchidee come incredibilmente profumate ed è stato visto che i maschi meglio profumati hanno maggior successo riproduttivo tuttavia noi tutti abbiamo sentito dire che l'amore è questione di chimica e in alcuni casi è esattamente così allora introduciamo i feromoni i feromoni sono delle molecole che hanno la funzione di scatenare una reazione in individui della stessa specie sono divisi in diverse classi ad esempio i feromoni traccianti sono i segnali chimici che vengono utilizzati dalle formiche per segnalare la strada che va dal nido alla fonte di cibo quindi grazie alla traccia chimica che viene lasciata per terra dalla prima che va in esplorazione le altre formiche sono in grado di seguire esattamente quella stessa pista i feromoni di allarme invece sono utilizzati ad esempio dalle api per coordinare gli attacchi contro i predatori esistono feromoni innescanti o scatenanti particolari reazioni in un altro individuo e nella classe dei feromoni liberatori o di segnalazione troviamo i feromoni sessuali i feromoni sessuali sono utilizzati da alcune specie ad esempio alcuni mammiferi pensiamo per esempio alle tigri per segnalare la propensione all'accoppiamento nel periodo degli amori le tigri femmine lasciano letteralmente fanno la pipì sugli alberi di modo che il maschio possa avvicinarsi e annusando percepire i feromoni di conseguenza andare poi a cercare la femmina tuttavia in alcune specie i feromoni sono utilizzati anche per incontrarsi immaginiamo di essere delle falene che volano nella notte di conseguenza noi non potremo certo usare la vista per trovarci di conseguenza c'è chi ha inventato delle particolari strutture come questa falena devinatele dove viene esatto il maschio è quello che vedete a sinistra e queste strutture molto particolari ricche di setole contengono un sacco di ghiandole che rilasciano feromoni nell'aria una volta che il maschio e la femmina si incontrano poi dopo avviene l'accoppiamento vero e proprio allo stesso modo le falene di saturn a pavonia si riescono ad incontrare questo è un maschio questa falena in rari casi si può vedere anche in centro modena ma nelle campagne è relativamente comune le antenne vengono definite pennate e tutte queste setole non hanno altro che la funzione di aumentare la superficie in modo che possano essere percepiti dei segnali in minima concentrazione parliamo di all'incirca 30-40 parti per milione quindi 30-40 molecole su un milione di molecole nell'aria una concentrazione piuttosto esigua ricapitolando le dimensioni corporee i segnali chimici la capacità di conquistare un buon territorio i colori sgargianti e le costruzioni elaborate così come le esibizioni canore e di ballo sono tutte indice di un esemplare che possa aver acquisito esperienza e possa portare buoni geni esperienza e buoni geni fanno di un maschio che si esibisce un potenziale padre vantaggioso abbiamo quindi detto che è la femmina a scegliere a volte la femmina influenza la selezione di particolari caratteri questo è un esempio di selezione sessuale ad esempio il pavone è famoso per avere questa enorme bellissima coda tuttavia può essere un impedimento non da poco quando si trova a dover scappare da un potenziale predatore allo stesso modo il granchio violinista possiede una chela abnorme che non ha alcuna funzione fisiologica viene semplicemente utilizzata dai maschi per contendersi il territorio nel quale puoi corteggiare le femmine letteralmente agitano questa chela uno davanti all'altro e quello che ha la chela di maggiori dimensioni sostanzialmente vince quindi che cosa succede quando la femmina seleziona dei caratteri invalidanti beh si parla di teoria dell'handicap questa teoria dice in soldoni che se un individuo riesce a alimentarsi correttamente a conquistare un buon territorio o semplicemente a vivere e a scappare dai predatori portandosi dietro un carattere invalidante allora è un potenziale padre perfetto perché avrà l'esperienza necessaria per sfuggire i predatori o trovare il cibo e allo stesso tempo degli ottimi geni perché esibisce un carattere invalidante ottimo quindi come possiamo riscontrare questi caratteri nell'uomo? Allora anche nell'uomo tutti questi caratteri che abbiamo visto fino ad ora negli animali sono presenti e hanno lo stesso significato allora oggi è San Valentino immagino che molti hanno ricevuto dei cioccolatini o dei fiori l'offerta di cibo o di doni in generale nell'uomo sono assolutamente molto presenti per quanto riguarda il corteggiamento il cibo sì i fiori anche i gioielli sono sempre apprezzati e quindi questo è un comportamento che di solito nel corteggiamento funziona le dimensioni corporee allora qui abbiamo riportato tre persone che sono considerate sicuramente da da molti da molte persone molto attraenti sono tre attori che a causa delle loro dimensioni corporee diciamo che insomma colpiscono il pubblico femminile proprio perché grandi dimensioni corporee aumentano anche il senso di protezione l'accesso a buoni territori allora nell'uomo nell'uomo lo vediamo molto presente in certi comportamenti quindi anche dove viene a mancare diciamo i prerequisiti fisici dove l'uomo non rispecchia proprio l'ideale di bellezza migliore la donna può sceglierlo se garantisce una certa stabilità e benessere economico per lei e per i propri figli poi ci sono tanti esempi che si possono fare allora anche qua i canti e le esibizioni anche se il maschio non rispecchia il maschio ma qua si parla poi anche della femmina in realtà quindi se maschio e femmine non rispecchiano al 100% gli ideali di bellezza però la capacità di certi tipi di ballo cioè l'essere bravi ballerini bravi cantanti ma una cosa che nell'uomo si è evoluta che negli animali ovviamente è impossibile anche la poesia quindi la capacità di una vena anche artistica sicuramente quindi questo tipo di esibizioni tendono a colpire l'altro sesso anche dove venisse un po' a mancare qualche prerequisito fisico importante gli odori allora noi abbiamo tutto un mondo dietro ai profumi l'industria della profumeria è molto molto sviluppata e anche le pubblicità dei profumi se ci facciamo caso rispecchiano molto gli ideali di bellezza i modelli in questo caso tantissimo sia il maschio che la femmina rispecchiano molto gli ideali di bellezza attuali però in generale in tutte le pubblicità dei profumi li associamo comunque all'attrazione a parte i profumi noi parliamo anche di feromoni allora i feromoni sono presenti assolutamente anche nell'uomo anche se a livello più inconscio allora se noi ci pensiamo un ricordo olfattivo nelle persone è molto più impresso rispetto al ricordo visivo se ci immaginiamo di sentire un odore che sentivamo quando eravamo piccoli lo riusciamo a ricollegare anche a delle sensazioni molto vive molto presenti molto più che un ricordo semplicemente visivo questo perché anche noi abbiamo l'organo capace di captare i feromoni che si chiama organo vomero nasale però molto meno sviluppato rispetto ad esempio a un cane che usa la comunicazione chimica molto più di noi allora in questa immagine cosa abbiamo messo questo è uno studio che hanno fatto su alcune persone sono studi che si fanno soprattutto a Vienna dove ci sono delle qua vediamo in teoria quello che succede questi sono delle donne bendate che devono riconoscere i loro partner tra tanti usando l'odore delle ascelle proprio perché nelle ghiandole nelle ghiandole sudoripare ci sono tante tante molecole vengono emesse tante molecole che sono proprio del riconoscimento delle persone quindi il riconoscimento olfattivo lo troviamo tra partner ma lo troviamo anche tra madre e figlio o anche tra fratelli c'è questo riconoscimento un altro esempio di feromoni molto importante e molto interessante è questo qua le copuline le copuline sono delle molecole prodotte dalla femmina solo durante l'ovulazione allora queste sostanze servono sono percepite a livello inconscio e servono a incoraggiare l'uomo all'accoppiamento infatti sembrano aumentare i livelli di testosterone del 150% allora hanno fatto uno studio su alcune ballerine di lap dance in un night club e hanno visto che queste ballerine avevano durante la fase dell'ovulazione il triplo delle mance rispetto a fasi diverse del ciclo quindi questo perché a livello comunque inconscio i feromoni agiscono anche nell'uomo allora ideali di bellezza nel tempo sono cambiati però sono cambiati soprattutto per la donna nel senso che l'ideale di bellezza maschile non è cambiato tanto noi ci siamo concentrati quindi su quello femminile partendo dalla preistoria le idee della fertilità erano rappresentate così quindi molto in carne proprio perché nella preistoria tutta questa ricchezza e questo cibo probabilmente non c'era quindi una donna che riusciva a nutrirsi era una donna fertile una donna in salute passiamo all'antico Egitto l'antico Egitto invece è stata una civiltà molto florida quindi c'era una grande prosperità si riusciva a mangiare soprattutto i ricchi infatti qua vediamo Cleopatra che è rappresentata molto magra successivamente invece nell'antica Grecia questa è Afrodite e nell'antica Grecia nonostante la magrezza sia ancora un criterio di bellezza però compaiono un po' di curve comunque che vengono mantenute anche nel rinascimento nella nascita di Venere questa Venere effettivamente un po' di curve ce le ha che vengono poi quelle curve esaltate con Marilyn Monroe negli anni 50 si ha proprio l'ideale di bellezza curvi che però decadono tra gli anni 60 e gli anni 70 questa è Twiggy la prima modella che ha messo la minigonna e l'ideale di bellezza in quell'epoca era essere proprio molto molto magre e filiformi senza nessuna nessuna curva oggi è ancora cambiato abbiamo riportato lei Adriana Lima che è una modella abbastanza famosa qua la magrezza rimane ma rimane sono comunque presenti le curve ma rimane anche un fisico atletico perché oggi siamo in una società in cui abbiamo un'abbondanza di cibo anche cibo spazzatura ma anche una vita molto sedentaria quindi un corpo magro ma anche atletico è sicuramente apprezzato ci sono poi dei criteri che invece sono validi sempre nel tempo uno di questi è il rapporto vita fianchi così sono quattro immagini di quattro donne uguali tranne per la circonferenza della vita allora la maggior parte degli uomini sembra preferire la prima quella cerchiata con il rapporto vita fianchi di 0,7 questa cosa succede anche per l'uomo quello più attraente è considerato quello con il rapporto vita fianchi di 0,9 questo addirittura stando allo studio non sembrava solo più attraente fisicamente ma le donne intervistate dicevano che questa persona era anche più in buona salute ambiziosa e intelligente però è comunque un disegno allora questo ha un significato importante però il rapporto vita fianchi ha un significato che riguarda assolutamente anche la salute perché un certo rapporto sotto lo 0,8 per le donne sotto lo 0,95 per gli uomini indica che non c'è un grande accumulo di grasso viscerale quindi la circonferenza della vita è ridotta perché il grasso che si accumula nell'addome diventa anche un fattore di rischio cardiovascolare quindi questo tipo di ideale di bellezza che noi colpisce ha anche un significato effettivamente adattativo evolutivo la simmetria del viso è una caratteristica che è considerata da sempre attraente infatti vediamo a sinistra il volto di Nefertiti questa regina dell'antico Egitto che ha un viso molto simmetrico che ancora oggi è considerato bello e a destra questa attrice Margot Robbie è un'attrice contemporanea che anche lei ha un viso molto simmetrico e sono entrambe considerate belle anche se ci sono tantissimi anni che le distanze non le separano il viso simmetrico implica l'avere anche buoni processi metabolici quindi c'è un riscontro anche per quanto riguarda il significato della salute allora nelle donne quello che viene cercato sono alcune caratteristiche che ricordano la giovinezza infatti le donne rimangono fertili per un certo periodo di tempo dopo di che non lo sono più quindi l'uomo tende a ricercare un ideale di giovinezza nella donna quindi l'assenza di peli e la presenza di colori chiari rimandano un pochino alla giovinezza nell'uomo è il contrario invece nell'uomo vediamo che caratteri che colpiscono di più la donna sono un mento un mento largo la presenza di barba quindi questo ricorda anche una presenza maggiore di testosterone che ricorda quindi una maggiore protezione un senso di protezione il sorriso anche il sorriso è importante perché l'uomo è un animale estremamente sociale quindi il fatto di essere persone sorridenti e solari implica la capacità anche per l'uomo di stringere alleanze quindi di diciamo vivere meglio nella società in cui ci troviamo oggi allora diciamo che maschi e femmini si sono scelti si è formata la coppia ora vediamo come funzionano i sistemi di accoppiamento allora abbiamo introdotto all'inizio il concetto di monogamia e poligamia allora la monogamia chiaramente è un maschio e una femmina della stessa specie la poligamia invece si divide in poliginia e poliandria nel caso di poliginia significa un maschio e tante femmine mentre la poliandria è una femmina e tanti maschi i sistemi di accoppiamento sono influenzati ad esempio dal rapporto maschi e femmine della stessa specie un rapporto grosso modo uguale a uno influenzerà positivamente la monogamia mentre invece un rapporto diverso da uno influenza la poligamia nel primo caso questo è un esempio di due pinguini questi sono due pinguini di Adelia che sono conosciuti per regalarsi delle pietre quindi il maschio porta delle pietre alla femmina per colpirla in questo caso invece le pietre vengono utilizzate per costruire il nido voi avete mai provato a trovare una pietra nella neve è piuttosto difficile e questo è perché questo pinguino la porta in dono alla femmina perché cercare una pietra in mezz'ora neve non è semplice nel secondo caso invece è un po' più classico conosciamo tutti il modo di dire il gallo nel pollaio i sistemi di accoppiamento sono infine influenzati anche dalla distribuzione delle risorse e di conseguenza degli esemplari abbiamo raccolto due esempi tipici molto conosciuti una tigre e un leone la tigre vive nella foresta ogni esemplare ha il suo territorio quindi maschi e femmine hanno il proprio territorio e si incontrano solamente durante la stagione degli amori mentre invece il leone vive in gruppi nella savana perché in gruppi perché la savana è un ambiente piuttosto povero di acqua di conseguenza la maggioranza degli animali tende a riunirsi nelle vicinanze di una fonte d'acqua quindi ad esempio una pozza o un piccolo laghetto quindi gli animali sono disposti diversamente sul territorio e quando la distribuzione è uniforme ad esempio nella foresta le varie tigri ci sono poche possibilità per la poligamia perché diventa già un evento piuttosto raro che un maschio e una femmina si incontrino mentre invece quando la distribuzione è irregolare quindi gli animali vivono in gruppi ci sono molte possibilità per la poligamia e in questo caso il leone è un classico esempio di poliginia quindi un maschio dominante e un gruppo di femmine in questo caso il maschio provvede alla difesa del territorio mentre le femmine collaborano tra di loro per la caccia per l'allevamento delle prole e tendono ad avere un estro sincronizzato quindi il leone maschio si accoppia con le femmine grossomodo nello stesso periodo che danno alla luce piccoli grossomodo nello stesso periodo in modo da facilitare tutte le operazioni di allevamento della prole perché se sono i cuccioli nascono tutti nello stesso periodo sarà in qualche modo più facile offrire il loro cibo discorso analogo vale per la lodola in questa specie il maschio è molto territoriale e all'interno del suo territorio si accoppia con diverse femmine e qui le femmine depongono le uova il maschio difende le risorse e come abbiamo detto all'inizio la femmina è una risorsa allora venendo invece alla monogamia ci sono diversi animali che attuano questo sistema qua abbiamo riportato l'esempio di due mammiferi la volpe e il cricetto di Campbell sono due esempi tra i mammiferi le termiti tra gli insetti vivono in sistemi sociali in cui c'è una coppia di reali e solo quelli si riproducono ciclicamente per aumentare il numero di individui della colonia e quindi si parla di monogamia anche in questo caso la monogamia però è molto molto presente invece negli uccelli il 90% delle specie degli uccelli sono monogami se ci pensiamo questo ha un significato importante perché dobbiamo immaginarci i pulcini i piccoli quando intanto le uova devono essere covate e poi quando nascono i piccoli vanno tenuti al caldo quindi servono due genitori uno cova e mantiene al caldo i piccoli l'altro va a cercare il cibo e lo porta a chi sta covando e quindi in questo caso la monogamia è importantissima perché garantisce un maggior successo riproduttivo quindi un maggior numero di figli che riescono poi effettivamente a crescere per questo negli uccelli è così presente ci sono poi dei casi dove la monogamia è imposta dalle femmine allora sopra ho riportato l'esempio del gibbone questo primate che vive in coppia quando una femmina è stato visto incontra un'altra femmina la picchia proprio cioè la allontana in modo aggressivo perché deve difendere comunque la coppia in cui lei poi si riproduce un altro esempio è quello del lupo il lupo vive in un gruppo sociale numeroso in un branco però si riproduce soltanto la coppia alfa c'è una gerarchia di dominanza molto precisa nei lupi quindi dall'alfa beta fino ad arrivare all'omega che è l'ultimo e nella coppia alfa quindi c'è una maschina e una femmina si riproducono solo loro quindi la femmina della coppia alfa impedisce proprio alle altre femmine del gruppo di accoppiarsi questo per garantire una sopravvivenza della sua prole quindi per trasmettere i propri geni allora la monogamia sociale quindi la presenza effettivamente della coppia non è la stessa cosa della monogamia genetica ci sono anche dei casi di extra per copulation quindi vuol dire accoppiamento extra coniugale praticamente quindi qua vediamo un esempio del diamante mandarino questo uccello che vive in coppie monogame si trovano in tanti negozi di animali anche e è stato visto uno studio su questo uccello che l'8% delle covate aveva almeno uno o più piccoli figli di padri diversi questo si verifica perché sembra aumentare la compatibilità tra i gameti quindi tra gli spermatozoi e le cellule uovo questo dà una maggiore variabilità genetica alla covata e quindi anche un maggior successo riproduttivo a questa coppia allora dalla monogamia si passa alla poliandria quindi una femmina tanti maschi allora questo è un po' più raro in natura in questo caso il rapporto maschi-femmine a favore dei maschi quindi ci sono più maschi che femmine l'habitat per sostenere la vita di branco deve essere ricco comunque di risorse come dicevamo prima questo porta una maggiore variabilità genetica nei piccoli perché i piccoli di una femmina hanno geni diversi perché sono figli di padri diversi ma ha anche minori possibilità di infanticidio perché in tante specie di animali succede che a volte il maschio uccide i piccoli se non sono figli suoi per fare in modo che la femmina torni fertile per poi accoppiarsi con lei in modo che dopo poi avrà dei figli suoi con questa femmina quando c'è l'incertezza della paternità questo riduce le possibilità di infanticidio l'esempio più comune è quello dell'ape l'ape da miele è l'ape comune che conosciamo tutti vediamo nell'immagine l'ape regina che lei si riproduce con più maschi della colonia che si chiamano fuchi poi ha una sorta di spermateca quindi un deposito di spermatozoi con cui ogni tanto feconda le sue uova con geni quindi sempre diversi altri esempi sono quelli di questo tipo di rana la rana da mantina le testugini e anche alcuni mustelidi tra cui la puzzola allora un discorso a parte lo meritano i bonobo allora i bonobo sono conosciuti anche come scimmie hippie perché sono molto libertini si parla di promiscuità proprio nei bonobo nel senso che loro manifestano comportamenti sessuali praticamente sempre quindi anche a scopo non riproduttivo devono prendere delle decisioni allora prima ci sono un sacco di comportamenti sessuali sono molto molto frequenti sono diversi dagli scimpanzè che sono i loro parenti più vicini proprio perché sono molto meno aggressivi anche per questo motivo quello che cambia è la dominanza nei bonobo la dominanza è femminile negli scimpanzè la dominanza è maschile anche in questo caso c'è un'incertezza di paternità che riduce il rischio quindi dell'infanticidio se non si sa di chi sono i piccoli possono essere anche figli di qualunque maschio e quindi si riduce il rischio di poterli uccidere una cosa importante da dire nei bonobo che questi comportamenti sessuali non andrebbero proprio sempre confrontati in tutte le circostanze con i comportamenti sessuali di altri animali di altri individui dell'uomo perché loro usano questi comportamenti con un significato anche un po' diverso che potrebbe essere come noi ci incontriamo a prendere un caffè a chiacchierare quindi il confronto si può fare ma con un certo criterio e dai bonobo passiamo al parente più prossimo ovvero vediamo quello che succede nell'uomo allora qual è quindi il sistema nuziale dell'uomo allora innanzitutto partiamo un passo indietro il corteggiamento è avvenuto cosa succede quindi una volta che il maschio e la femmina si sono scelti c'è la fase di formazione della coppia questa fase iniziale può durare anche molto a lungo può durare anche dei mesi settimane e in questa fase si stabiliscono i legami all'interno della coppia inizia il contatto fisico ad esempio ci si tiene mano nella mano se noi pensiamo alla nostra società il contatto fisico è legato alla sfera intima quindi a una madre col figlio fratello e sorella o appunto a due partner una volta che la coppia si è stabilita quindi abbiamo deciso che siamo una coppia inizia la fase numero due la fase precopula il contatto fisico si fa più intenso ci sono fenomeni quale il bacio sia sulle labbra che su altre parti del corpo ad esempio i lobi delle orecchie ho letto un articolo che ipotizzava che i lobi delle orecchie fossero stati evoluti specificamente per agevolare la fase precopula perché sono ricche di terminazioni nervose ma non hanno alcun altro significato biologico una volta che finisce questa fase inizia la terza fase la fase precopula finisce quando siamo ancora vestiti dopodiché inizia la fase numero tre questa la lasciamo in camera da letto quindi l'uomo ha un sistema monogamo o poligamo prima di darvi la risposta analizziamo la poligamia allora innanzitutto nella poligamia le femmine hanno dei benefici temporanei legati alla cura della prole e alla sicurezza economica infatti immaginiamo un sistema dove c'è un marito e diverse mogli queste diverse mogli faranno diversi figli e tutte insieme collaborano all'allevamento della prole tuttavia nei paesi dove la poligamia è contemplata è stato notato che con l'aumento dell'istruzione femminile con il calo dei matrimoni combinati e con l'emancipazione femminile siamo passati verso un sistema che viene definito monogamia seriale quindi si formano le coppie hanno una durata più o meno lunga nel tempo ma generalmente l'uomo è monogamo un'altra considerazione da fare riguardo alla poligamia è che nelle culture in cui la poligamia è contemplata essa rimane un fenomeno legato a certe classi sociali o a un'elite pensiamo al classico caso dello sceico arabo che ha tante mogli perché ha tante mogli perché se le può permettere sostanzialmente può permettersi di allevare diverse mogli e diversi figli ho letto di un caso in cui un uomo ha avuto più di 90 figli con circa una quarantina di mogli quindi diventa molto difficile dal punto di vista economico diciamo tenere dietro tutte queste persone tuttavia la poligamia è concessa anche in casi particolari nelle tribù dei primi Homo Sapiens in questo caso immaginiamo uno dei due partner che perde la capacità di riprodursi o muore ad esempio per un incidente di caccia o qualsiasi altra cosa allora la femmina può andare ad inserirsi in una coppia ed in questo caso sarà il maschio che si occupa di entrambe le compagne e i figli avuti con entrambe le compagne quindi abbiamo parlato di queste tribù ancestrali qual'era la situazione? innanzitutto Homo Sapiens è una specie che viveva di caccia però l'Homo Sapiens non è tanto bravo a cacciare immaginiamo il nostro fisico e la nostra propensione alla caccia rispetto a quella di un leone una tigre non abbiamo certo le armi fisiche che ha che hanno i felini quindi era necessaria una suddivisione dei ruoli le femmine restavano ad occuparsi dell'accampamento definiamolo mentre i maschi andavano a caccia la caccia doveva essere cooperativa per riuscire ad abbattere predi di grandi dimensioni come un grosso cervo o l'iconico mammut tutto questo era possibile grazie ad un cervello di dimensioni considerevoli soprattutto rapportato le dimensioni del cervello dei nostri cugini più prossimi come gli scimpanzè questo cervello ha permesso l'invenzione e l'utilizzo di armi tuttavia ha necessità di essere sviluppato ed educato attraverso un'infanzia piuttosto lunga queste caratteristiche portano quindi ad alcune conseguenze innanzitutto le femmine devono rimanere fedeli quindi devono avere una certa certezza diciamo della coppia e una certa soddisfazione i maschi devono essere collaborativi tra loro ad esempio per la caccia tutto questo porta ad avere pari diritti sessuali tra i maschi e le femmine cosa diversa ad esempio in un gruppo di lupi pensiamo un altro fattore molto importante è che le lotte tra i maschi sono diventate estremamente pericolose proprio per l'invenzione delle armi che ha permesso all'homo sapiens di abbattere prede molto grosse allo stesso tempo le competizioni potrebbero non essere tanto convenienti perché si rischia di diminuire il numero di esemplari della specie uccidendosi a vicenda cosa che purtroppo avviene anche oggi infine l'infanzia di lunga durata rende necessario accudire i piccoli per lungo tempo quindi il maschio e la femmina debbono collaborare un po' come succede nel caso degli uccelli per accudire il bambino in sostanza l'uomo è predisposto a formare delle coppie e quindi ad essere diciamo monogamo seriale tutto questo porta al fatto che l'uomo è evolutivamente predisposto ad innamorarsi e qui arriviamo alla domanda fondamentale della nostra conferenza esiste o non esiste l'amore? beh la risposta non è chiaramente cristallina ma alcuni studi dicono che l'amore ha un significato biologico ben preciso è infatti fondamentale per formare delle coppie stabili nel tempo e quindi costruire una famiglia o semplicemente mandare avanti la specie con questo vi ringraziamo vi auguriamo buon San Valentino vi siamo estremamente grati per aver condiviso con noi questo momento di scienza e vi lasciamo con questo bel cuoricino babbino grazie a tutti siamo assolutamente sicuri che avrete un sacco di domande o almeno io guardando Trump qualcuno me la sono fatta venire comunque aspettiamo le vostre per alzata di mano chiunque abbia qualcosa da chiedere siamo qua ancora per qualche minuto di disposizione non siate timidi niente va bene li avete lasciati assolutamente senza parole ma come biasimarli del resto è stato bellissimo se avete qualche ballo di qualche volatile da simulare per farci per darci una giusta buonanotte no accidenti un vero peccato allora vi ringraziamo tutti quanti per essere venuti qua questa sera e ne approfittiamo per invitarvi intanto a seguirci su facebook su incoscienza e poi vi invitiamo all'evento della prossima settimana il tema che toccheremo è decisamente di attualità parleremo appunto di bitcoin di criptovalute e di blockchain una tecnologia che secondo molti esperti è destinata a cambiare il mondo della finanza e non soltanto quindi per chiunque fosse interessato mercoledì prossimo ore 21 scienza più voci per il secondo appuntamento vi ringraziamo nuovamente vi auguriamo buona serata e buon San Valentino grazie a tutti 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 grazie a tutti